La sofferenza non è il fine, non è che uno si soffre, oggi ci sono tanti strumenti, la medicina ha fatto dei cammini enormi, soprattutto queste cure palliative che ti permettono di condurre la tua vita, anche se tu sei malato, puoi essere malato terminale, però senza il dramma della malattia, della sofferenza fisica. Questo viene alleviato fortemente, è quasi sparita totalmente, è proprio il portare a pensare alla persona che anche se è in un letto, è questa la cosa, perché oggi veramente ci sono casi di sofferenza, ma ci sono le risposte alla sofferenza fisica. Il problema è proprio quello di concepire che la tua vita, anche se è in un letto, non ha più senso, non ha più nessun valore. E non è così, se tu trovi qualcuno che ti sta a fianco, condivide con te e tu stesso ricevi da queste persone in realtà, ricevi moltissimo. Io, mi dispiace che qui registrano, spero, ma io penso a una delle mie pronipoti, che quando mia mamma è morta, che aveva 5 anni, ma lei, la sua bisnonna, la mia mamma è morta, ma lei ancora oggi ha ricordi bellissimi, della nonna che si era a letto, anche se queste carezze, le dicevano quando la nonna mi accarezzava, io mi sembrava di sentire, ma questa è quasi un angelo, che mi toccava. E questa è una ricchezza, che una bambina di 5 anni si porterà dietro perché è tutta la vita. Poi abbiamo scoperto che adesso ne ha 9, e lei ogni tanto va da sola al cimitero, perché deve parlare con la nonna, perché io come facevo, quando era malata, io le devo raccontare le mie cose. Ecco, sono banalità se volete, ma in realtà stare vicino ai malati, non so se siete mai stati all'URT, ecco, con l'unità al sì, lo consiglio, andare all'URT con l'unità al sì, è più quello che uno si porta a casa di quello che riesce a donare a queste persone, ma tu vai a lui per metterti al loro servizio. In realtà tutti, non è l'esperienza di uno, vi assicuro, che ci può essere, ma è di tutti, di tutti. Io sono portato tanti giovani a GURD, ragazzi non credenti, hanno quando tornano da casa. E' un altro che ringraziare, perché? Perché avevano vissuto un'esperienza con queste persone, apparentemente, ecco, per no meno, secondo la visione del mondo, che non valevano niente, diciamo. Il problema è che dovremmo tentare di fare vivere ai nostri ragazzi veramente esperienze, esperienze di valore che ce ne sono ancora.